Il Dio di Spinoza Il Dio di Spinoza Ma che cavolo dici? Allora stai attenti che quella ti incastra Ma Stefano Io me lo sento proprio che Francesca le piace davvero Sì Tu ti fidi di me? Sinceramente no Allora mi fido James Gunn ha terminato la stesura della prima bozza della sceneggiatura di Guardiani della Galassia 2 Il regista stesso ha comunicato la notizia attraverso il suo profilo Twitter Le riprese sono fissate approssimativamente per febbraio 2016 Al momento nessuna notizia sulla trama e sui possibili nuovi membri del cast Comunque sono confermati quasi in blocco quelli del primo capitolo I Guardiani della Galassia 2 sarà diretto dallo stesso James Gunn E nel cast troveremo Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Battista, Bradley Cooper, Karen Gillian e Vin Diesel Siamo in attesa anche del titolo ufficiale quindi stay tuned Ciao da Valeria